Assessore alla cultura Crispino, un grande avvenimento qui ad Agropoli, Salemme apre la stagione teatrale, emozionale? Una apertura eccezionale con uno degli artisti di punta del panorama nazionale e riprendiamo nel migliore dei modi la stagione teatrale della città di Agropoli. Come giustamente diceva l'attore al termine della sua performance, una rivoluzione della nostra città, si è realizzata anche attraverso l'apertura di questa bellissima struttura, il Teatro De Filippo, nel momento in cui in Italia tanti teatri chiudono, una colmice di pubblico eccezionale, un'organizzazione eccellente, un ringraziamento particolare ovviamente va a Pierluigi Iorio, direttore artistico di questa rassegna, va a Sergio Di Fiore e alla sua società che gestisce la struttura, e un ringraziamento particolare, rinnovo ovviamente al pubblico meraviglioso che ha fatto, ripeto, da cornice stasera. Grazie.